Ok ragazzi, è ora di giocare a Pokemon Go! Oh mio Dio, la Chamburbasaurus! Ma Davis, quello là è un melone con sopra una banana. Non lo rompere, non lo rompere a me, così lo fai scappare. Incominciamo. Incominciamo con una Pokeball. Pronto alla mia fira? Ho detto sei pronto? Addio, Pokemon, inutile. Non l'ha catturato. Certo, è un frutto! Ho pure un altro frutto, non è vero. Cosa posso usare? Che Pokeball posso usare raga? Sto scappando! Che ha fatto il verso di uno squirrel? Tutto sordo. Ha fatto il verso di un Bulbasaurus. Scusa, volevo dire Bulbasaurus. Mi ha fatto scappare! No! Mi ha fatto scappare tutta coltatura. Ah, così ti impari a cacciare, invece di Pokemon, la frutta. E ci ho sfigato. Vedete se devi cacciare della frutta. Oddio! Una pesca! Beh raga, se il video vi è piaciuto, lasciate un pollicione e... Ero là che ha cacciato... Stava prendendo una pesca. Alla fine l'ho presa io, l'ho ucciso. Comunque... Ciao ragazzi! E... Le Pokeball! Sono falsi! Oh, ok cities! Ero!